Buongiorno e ben ritrovati con un nuovo appuntamento dell'agenda di Siderweb. Cominciamo con domani martedì 13 aprile. Si terrà una nuova edizione di mercato e dintorni a partire dalle 11 su Zoom. Nell'approfondimento mensile di Siderweb dedicato alla congiuntura si parlerà in particolare della siderurgia europea tra sfide e nuove opportunità. Interverranno gli analisti di Siderweb Achille Fornasini e di Eurofer Alessandro Sciamarelli a chiudere l'intervista ad Antonio Marcegaglia. La partecipazione come di consueto è gratuita previa registrazione nell'area eventi webinar di Siderweb.com. Sempre martedì l'Istat pubblicherà i dati sulla produzione industriale di febbraio nonché la nota mensile sull'andamento dell'industria italiana aggiornata a marzo. Mercoledì 14 aprile è in programma l'Assemblea Generale Annuale degli Azionisti di SSAB che potranno esprimersi attraverso il voto postale. Nello stesso giorno è in calendario Merger and Acquisition, un summit del sole 24 ore a partire dalle 9.30. Un evento digitale che parlerà di quali sono i temi che determinano i deal più importanti e qual è lo scenario futuro. La IEA pubblicherà poi il rapporto mensile sul mercato del petrolio e infine sempre mercoledì l'Eurostat pubblicherà il rapporto sull'impatto della crisi Covid sulla produzione industriale. Giovedì 15 aprile è in calendario l'approvazione della relazione finanziaria annuale 2020 di CNH Industria. Infine venerdì 16 aprile è in calendario la lezione webinar del Centro Inox, i trattamenti termici degli acciai inossidabili. Verranno fornite informazioni che competono ad ogni famiglia di acciaio inox con un focus sulle possibili problematiche che potrebbero insorgere. Per informazioni e iscrizioni centroinox.it È tutto per questo appuntamento dell'agenda di Siderweb e vi ricordo che per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazionechiocciolasiderweb.com Grazie per l'attenzione e a tutti una buona settimana! Grazie per la visione!